Come mi vuoi stamani? Mi vuoi più licantropo, più vate, mi vuoi vate? Panettiere, un po' più panettiere, più difensore degli oppressi, più dispotico, più grucia Marx. Non so, una sorpresa. Kabuki, meno kabuki, più. Ho dimenticato ancora il nutrimento delle galbelli. Ma no, che l'ho preso. E dov'è? E dov'è? Sarà lì dentro al sacco, no? Eh no, ci sto guardando ma non c'è. Andrai a prenderlo. Revision Lesson No. 8 He was dreaming He was dreaming We were running We were running We will be flying We will be flying Intonation He was dreaming He was dreaming Listen carefully He was dreaming She was smiling We were running In his eyes Guarda! Guarda cosa? Guarda, guarda, guarda Lo vedi? Piano, 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 piano Sono ragazze che pescano Sono ragazze orientate Da dove? Da dove? Da dove venite? Filippines Filippines? Oh oh Filippines 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 E la pizza china Filippines Filippines Go, go, ci ha, Filippines Filippines Ci ha marito che le Filippines Grazie a tutti. Grazie a tutti.